Il Consiglio Comunale dalla prossima settimana dovrà rapportarsi ancora una volta con il capitolo delle variazioni di bilancio. La sise civica lo farà non solo con la seduta di martedì, ma soprattutto con la conferenza dei capigruppo fissata per venerdì prossimo. Ieri il Presidente Salvatore Sammito ha confermato quest'ultima convocazione. Sarà un confronto a tutto tondo in presenza dei capigruppo, dei revisori, del dirigente al bilancio Pino Erba, del titolare del settore Governance PNRR Antonino Collura, dell'assessore Arramo Mariangela Farace e del segretario generale Carolina Ferro. Non si esclude la partecipazione del sindaco Lucio Greco. Sammito ha condiviso la decisione di affrontare la questione direttamente con i capigruppo. Sono almeno una decina le variazioni di bilancio da vagliare. Si tratta in gran parte di somme a copertura di progetti già finanziati. L'amministrazione comunale non vuole correre il pericolo di far saltare i cronoprogrammi in atto. L'emergenza finanziaria che si è abbattuta sul municipio rende imprescindibile procedere con le variazioni. I revisori si sono dimostrati assai rigidi nella valutazione di questi passaggi. Il non aver disposto delle somme finanziate nell'anno dello stanziamento è un aspetto che il collegio tiene in forte considerazione. Sindaco e assessori sono invece certi che le variazioni siano la via unica per garantire progetti irrinunciabili. È già in stato avanzato. S'ammito dell'avviso che in questa fase la sese civica debba dare priorità a questi atti astraendosi da qualsiasi valutazione politica. Secondo il Presidente del Consiglio Comunale si tratta di atti da valutare sulla base delle esigenze finanziarie del municipio. Sono fondamentali anche per il proseguo e non certo per sostenere l'aggiunta greco. Il Presidente ribadisce che nessuno chiede che ci siano riscontri politici ma solo legati alle esigenze di tenuta finanziaria e di fattibilità di importanti progetti. Le variazioni di bilancio che saranno al centro del confronto, qualora emergesse un clima di consenso, potrebbero essere inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per i primi giorni di settembre. Sicuramente bisogna fare in fretta in un percorso amministrativo rivolto quasi esclusivamente al piano di riequilibrio da trasmettere alla Corte dei Conti per salvare il salvabile.